Sant'Arsenio, iniziere il convegno ambiente e sistema rifiuti organizzato da Osare. Montesano sulla Marcellana, dalle scuole primarie di Arena Bianca, una lettera al sindaco, immediata la risposta. Maturità 2017, scelte le tracce e definite le date. Padula, presentato in regione il Festival del Libro, in programma dal 12 al 14 maggio. Carate, Emanuele Sarnataro, domani in pedana per il bronzo a squadre. Buongiorno e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Si è svolto ieri sera, presso il Teatro Amabile di Sant'Arsenio, l'incontro sul tema ambiente e sistema rifiuti, il ruolo delle istituzioni. Chi ha visto relazionare sull'argomento il presidente del lato rifiuti della provincia di Salerno, Giovanni Coscia, il presidente di Lega Ambiente Campania, Michele Buonomo, e il presidente dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio, l'Abbocato Angelo Paladino. Ad aprire l'incontro i saluti del presidente dell'Associazione Osare, Vincenzo Forte. Ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato. Grazie. 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 in età matura, i 6 metri di lunghezze che risulterebbe tra i più grandi della specie, peraltro esemplare molto diffuso nei mari tropicali e che difficilmente attacca l'uomo. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto che ha immediatamente fatto allontanare i bagnanti e sul posto c'erano anche gli esperti della stazione zoologica di Napoli. Campiamo argomento. Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha ricevuto ieri una lettera speciale sottoscritta dagli alunni delle scuole primarie di Arena Bianca con una particolare richiesta dal primo cittadino e arrivata immediata la risposta. Una lettera inaspettata ma quanto pare gradita seppur nelle righe arrivano richieste che per un ente comunale a cui le risorse dallo Stato arrivano risicate potrebbero risultare difficili da realizzare. È successo a Montesano sulla Marcellana e ha visto come destinatario della missiva speciale il primo cittadino Giuseppe Rinaldi che ha letto e subito ha annunciato di voler dare la priorità alla richiesta. Richiesta che è pervenuta da cittadini speciali visto che si tratta degli alunni delle scuole elementari, il futuro come li ha definiti lo stesso sindaco. Ad aver sottoscritto la missiva datata 5 maggio e giunta sulla scrivania del sindaco sono stati gli alunni delle scuole elementari di Arena Bianca per chiedere al primo cittadino un impegno affinché possa essere consentito loro di praticare attività motoria a scuola. Nella dolcissima lettera ai piccoli di Montesano spiegano che avendo chiesto alle maestre di poter fare attività motoria le stesse hanno dovuto dire di no in quanto carenti di spazi idonei anche per la loro sicurezza. Da qui la decisione dei piccoli di rivolgersi direttamente al sindaco con una lettera per formulare la loro richiesta. Potrebbe, scrivono i piccoli, fare qualcosa per noi, attrezzare uno spazio per noi dove possiamo muoverci in sicurezza? Restiamo in attesa e porgiamo i nostri saluti. Una lettera dolcissima a cui il sindaco non ha esitato un attimo a rispondere rendendo la nota alla sua comunità come ha sempre fatto e pubblicando la lettera e la sua risposta sul suo profilo Facebook. Ci sono giorni, scrive Giuseppe Rinaldi, in cui essere sindaco di un comune con un territorio complicato e con battaglie di grande rilevanza come Montesano è davvero dura. Ci sono giorni in cui solo la grande passione per la politica e l'amore per il tuo paese ti danno la forza di lavorare. Poi, fortunatamente, continuo orgoglioso, ci sono giorni in cui sulla tua scrivania al comune arriva una lettera bellissima scritta a mano dai bambini della scuola primaria del plesso scolastico di Arena Bianca in cui, giustamente, chiedono uno spazio adeguato per la loro sacrosanta attività motoria. Le andò a trovare in settimana, assicura Rinaldi, ed insieme troveremo una soluzione. Questi giorni sono fra quelli che un giovane sindaco relativamente al suo lavoro, che poi è una missione scelta liberamente e confermata democraticamente per la propria comunità, mai potrà dimenticare perché ci sono richieste lettere e istanze che recano con sé un valore al di sopra delle altre perché, conclude il primo cittadino, hanno in seno il profumo del futuro di Montesano e sono sicuro nessuno si offenderà. E si avvicina l'esame di maturità. È iniziato il conto alla rovescia per oltre 500.000 studenti. Sono state scelte le tracce e definite le date. Sono state scelte le tracce e definite le date della maturità 2017. Scatta il conto alla rovescia per gli oltre 500.000 studenti che si apprestano a sostenere gli esami di Stato. Si parte mercoledì 21 giugno con la prova scritta di italiano. Si prosegue giovedì 22 con la seconda prova e lunedì 26 con la terza. Martedì 27 si terrà invece nelle scuole che la prevedono la quarta prova. Per quanto riguarda le scuole, sede di seggio per le amministrative, in caso di ballottaggi la terza ed eventuale quarta prova slitteranno di un giorno, quindi rispettivamente il 27 anziché il 26 giugno e il 28 anziché il 27. Intanto, già da un po' è partito il tototracce tra i ragazzi per confrontarsi e fare previsioni. Dal Ministero fanno sapere che le tracce sono belle, interessanti e coerenti con il percorso scolastico che gli studenti hanno svolto. Lo ha annunciato Francesco Branca, che è a capo della struttura tecnica degli esami di Stato, in un video che fa parte della campagna di comunicazione dal titolo No Panic, con cui il Ministero sta accompagnando i ragazzi nel percorso verso la maturità. La campagna, ha sottolineato il Ministro Fedeli, è partita con il video con cui abbiamo annunciato le materie della seconda prova e accompagnerà maturande e maturandi fino alla fine della maturità. Vogliamo che il MIUR parli di più e in modo più diretto con studentesse e studenti e non venga percepito come un luogo distante o legato esclusivamente ad aspetti burocratici. La campagna continuerà con nuovi video, post dedicati, grafiche e tutorial che nelle prossime settimane saranno diffuse attraverso i canali social del MIUR. Intanto, entro il 15 maggio, i consigli di classe redigeranno il documento con tutte le indicazioni sul percorso degli studenti da consegnare alle commissioni e lunedì 19 giugno sarà il giorno della prima riunione plenaria delle commissioni. Anche l'Università di Salerno ha il suo complesso residenziale che offre ben 152 posti letto dotati di ogni comfort e soprattutto vicino all'Ateneo, collegato attraverso una passeggiata coperta. Giovedì scorso l'inaugurazione con il rettore Aurelio Tommasetti che si è mostrato particolarmente soddisfatto anche per una futura internazionalizzazione dell'Ateneo. Nei giorni scorsi l'inaugurazione dei nuovi complessi residenziali per l'Ateneo salernitano, migliorando quindi il servizio di Fisciano. Si amplia il campus universitario dell'Unisa rendendolo sempre più competitivo nel panorama nazionale e internazionale. 152 nuovi posti letto su una superficie di oltre 20.400 metri quadri, 74 posti auto, ampi spazi verdi, 6 aule studio, una sala conferenza, una sala riunione, una sala per videoproiezioni o un'area internet. Edifici ultramoderni realizzati in ottica di contenimento dei consumi energetici affinché rendano il fabbricato sostenibile. Inoltre, gli edifici sono stati realizzati con moderne tecnologie antisismiche e sono dotati di isolatori sismici che assecondano e smorsano un eventuale sisma. Il nuovo complesso residenziale di Pente, località Mariscoli, inoltre inaugurato lo scorso giovedì 4 maggio, è stato completato anche nelle aree di contorno con la realizzazione di strade, parcheggi, zone pedonali, spazi verdi e relativi impianti di irrigazione. Infine, il complesso residenziale è stato collegato al campus mediante un camminamento coperto realizzato in acciaio a copertura in plexiglass. Una struttura che rappresenta un passo in avanti verso la crescita complessiva dell'Università di Salerno, che avrà sempre più i numeri per candidarsi ad essere un Ateneo competitivo non soltanto dal punto di vista formativo, ma anche per i servizi offerti. Un'università sempre più aperta all'internazionalizzazione, come ha avuto modo di spiegare il magnifico rettore Aurelio Tommasetti. 152 nuovi appartamenti sono stati oggi inaugurati, unitamente ad un'aula per le conferenze e unitamente ad altre 10 sale studio, che ci renderanno la possibilità di poter aprire, come il nostro desiderio, la nostra università, il sabato e la domenica, nei due poli, questa zona qui di Penta e l'altra a Monte, verso Fisciano. E' importantissimo per noi le residenze, perché questo ci farà fare un salto di qualità ulteriore in quel processo di internazionalizzazione del nostro Ateneo, che significherà poter attrarre studenti e professori dall'estero, anche poter attrarre migliori studenti ovviamente in Italia, perché sappiamo bene che studiare all'interno del campus è completamente diverso, piuttosto che invece trascorre questo periodo l'università nelle proprie abitazioni. Credo quindi che è un processo complessivo di crescita dal punto di vista infrastrutturale. Il nostro Ateneo e i nostri due campus viene oggi riconosciuto come un'eccellenza dal punto di vista infrastrutturale. Abbiamo investito nel tempo e continueremo a farlo, innanzitutto nella manutenzione, perché quando siamo un patrimonio così importante da gestire è decisivo, diciamo, la manutenzione è straordinaria e ordinaria, e quindi programmare gli interventi e continueremo a far crescere, diciamo, quest'area nell'interesse dei nostri studenti innanzitutto, nell'interesse anche, diciamo, del nostro personale tutto, e più che altro in armonia anche con le amministrazioni territoriali che hanno sposato questo progetto e non statene e sostengono con negative autorizzazioni la possibilità di poterci fare ulteriormente crescite. Perché nel momento in cui le inauguriamo, noi le scorse settimane in Consiglio di Amministrazione abbiamo deliberato un nuovo progetto per altre 160 residenze e poter partecipare ad un bando del Ministero nazionale di cofinanziamento, 50% università, 50% ministero, a testimonianze che vogliamo ancora crescere, perché sappiamo che mantenere questi risultati nel ranking nazionale e internazionale lo si fa anche puntando sulle infrastrutture. Sono trascorsi pochi giorni dall'attivazione sul sito dell'Inps della piattaforma telematica dove è possibile richiedere il bonus mamma di 800 euro. 600 milioni a disposizione e in appena 24 ore sono state formulate oltre 27 mila richieste. E' stato attivato da appena due giorni il nuovo servizio per la richiesta del bonus mamma domani che prevede la concessione di un bonus di 800 euro alle mamme al settimo mese di gravidanza o che hanno partorito e adottato un bambino a partire dal 1 gennaio 2017. 600 milioni la dotazione finanziaria prevista dalla legge di bilancio 2017 e in poco più di 24 ore all'Inps sono già pervenute oltre 27 mila domande. Un contributo a cui, a differenza di quanto previsto dal bonus bebè riconosciuto in base al reddito viene invece concesso a tutte le mamme indipendentemente dal reddito. Ma anche le cittadine comunitarie o rifugiate politiche che sono equiparate alle cittadine italiane possono richiedere la somma di 800 euro. Hanno diritto al bonus mamma domani anche le donne in possesso del permesso di soggiorno per l'Unione Europea o carta di soggiorno per familiari di cittadini europei per le mamme extracomunitarie. Insomma, nessun limite per il sostegno alle mamme che dal 1 gennaio 2017 hanno dato alla luce un bimbo in Italia con lo Stato che elargirà un premio per il sostegno delle spese dei primi mesi di vita dei piccoli. Sul sito internet dell'Inps sono già disponibili tutte le informazioni utili per presentare la richiesta per accedere al contributo e la piattaforma su cui è possibile presentare la domanda telematica. Il premio, come riportato sulla circolare pubblicata sul sito internet dell'Inps verrà erogato su richiesta della donna gestante o della madre del minore nato a partire dal 1 gennaio 2017 oppure adottato o affidato. Alla richiesta del bonus occorre specificare se la donna ha compiuto il settimo mese di gravidanza ed è quindi all'inizio dell'ottavo mese la nascita del bambino adozione del minore nazionale o internazionale disposta con sentenza divenuta definitiva affidamento preadottivo nazionale o internazionale. C'è tempo un anno per la presentazione delle domande di richiesta del bonus mamma domani con termini che scadranno quindi il 3 maggio 2018. La richiesta potrà essere presentata direttamente utilizzando il sito internet www.inps.it oppure rivolgendosi ad un ufficio di patronato. E' stato presentato ieri mattina presso la sede dell'assessorato regionale all'istruzione e politiche sociali il festival del libro che si terrà a Padula dal 12 al 14 maggio. A rappresentare il comune di Padula il sindaco Paolo Imparato e l'assessore Filomena Chiappardo. Ieri mattina presso la sede dell'assessorato regionale all'istruzione e politiche sociali a Napoli si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del festival del libro in programma dal 12 al 14 maggio a Padula a cura dell'associazione No Profit Agenzia Arcipelago Onlus con il patrocinio dell'assessorato all'istruzione e politiche sociali della regione Campania e l'assessorato alla cultura del comune di Padula. All books are important e il titolo della prima delle tre edizioni itineranti dopo Padula infatti sarà la volta di Tirana e Scopie del festival del libro Rassegna che per tre giorni properrà 30 eventi tra incontri, seminari e conferenze con autori, scrittori e disegnatori spettacoli musicali laboratori sulla lettura d'alta voce e sulla scrittura creativa sotto la direzione di Angela Latorre responsabile del progetto europeo e il coordinamento dello psicologo Giuseppe Enrico. Grazie a questa straordinaria manifestazione culturale e sociale la certosa di San Lorenzo a Padula patrimonio dell'UNESCO si trasformerà in una grande biblioteca aperta ai ragazzi del territorio della Campania e in particolare alle scuole mettendo in collaborazione l'Italia con Macedonia ed Albania. Ieri mattina alla presentazione del programma anche l'assessore regionale all'istruzione e alle politiche sociali e Lucia Fortini oltre ai rappresentanti del comune di Padula. Il festival è importante per avvicinare i ragazzi alla lettura è un obiettivo dell'assessorato per renderli più forti, più consapevoli leggere significa innamorarti di personaggi significa anche però acquisire la capacità di autodeterminarsi e allora non possiamo che sostenere come assessorato questo importante festival. Devo dire che io ho una particolare debolezza per le persone che lavorano con passione quando la vedo quando vedo occhi che brillano non riesco a non dare una mano credo che davvero l'organizzazione stia lavorando con tanta passione e ho letto la passione per i ragazzi sono davvero il nostro futuro una risorsa enorme e a volte il fatto di non riuscire ad arrivarci di avere dei linguaggi diversi non riesce a trasmettere tutto quello che vorremmo e allora un festival come questo che può invece avvicinarli alla lettura credo che sia un evento straordinario. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Oggi e domani in oltre 2000 piazze italiane sarà offerta a fronte di un contributo l'Orchidea dell'Uricef. Vediamo quali sono le piazze del Vallo di Viano. Oggi e domani torna in oltre 2000 piazze italiane l'Orchidea targata Unicef l'attività di sensibilizzazione e raccolta fondi che vede impegnati migliaia di volontari in tutta Italia. Quest'anno a fronte di un contributo è possibile ricevere un'orchidea e sostenere la campagna per ogni bambino sperduto che ha l'obiettivo di proteggere migliaia di bambini sole alla ricerca di un luogo sicuro in fuga da guerre, povertà e violenza. Testimonial della campagna come di consueto ormai è Lino Banfi storico goodwill ambassador dell'Unicef Italia. Banchetti in cui è possibile acquistare l'orchidea sono allestiti anche nel Vallo di Viano ad Atena Lucana, Monte San Giacomo San Pietro Altanagro Sant'Arsenio Sanza e Teggiano. I fondi raccolti saranno destinati all'obiettivo specifico di salvare le vite dei bambini migranti e rifugiati. Nel 2016 ha dichiarato Giacomo Guerrera presidente dell'Unicef Italia sono arrivati via mare in Italia 26 minorenni stranieri non accompagnati il 92% dei quali aveva tra i 14 e i 17 anni e viaggiava da solo. Quest'anno in soli tre mesi ne sono già arrivati 3.000 sono bambini che scappano da conflitti persecuzioni e deprivazioni e affidandosi a trafficanti senza scrupoli affrontano viaggi terribili seguendo la rotta del Mediterraneo centrale. Molti di loro una volta giunti in Italia fanno perdere le loro tracce o perché fugono in altri paesi europei o perché vengono sfruttati da organizzazioni criminali nel nostro paese. L'Unicef conclude Giacomo Guerrera lavora nei paesi di origine transito e destinazione proteggendo i bambini aiutandoli ad ottenere un'istruzione e a soddisfare le proprie necessità di base. E passiamo allo sport con il Real Palomonte a riposo la Gregoriana può avvicinarsi ma deve vincere contro la Pollese. In casa gioca il Sassano mentre va in trasferta il Certosa di Padula. Quattro giornate alla fine della stagione regolare per il campionato di prima categoria Girone e G. Da domani tutte le squadre giocheranno in contemporanea aprendo ufficialmente un finale di stagione che si annuncia al Cardiopalma. Con il Real Palomonte avanti di quattro punti in classifica è certo di conservare la testa del Girone anche al termine di questo weekend dove osserva un turno di riposo fa ripuntati sullo Stadio Medici di Polla dove la Pollese ospita la seconda forza la Gregoriana. Per Troiani e Soci l'occasione è ghiotta per avvicinarsi alla vetta del Girone e puntare a giocarsi tutto nello scontro diretto in programma all'ultima giornata. Sulla carta è un match alla portata per la formazione di Mister Menza ma occhio ai ragazzi terribili in giallo-verde. Diverso è il discorso per il Sassano che dopo la vittoria esterna in casa della Gregoriana di sette giorni fa continua a macinare punti per confermare la sua terza posizione. I ragazzi di padrone Ricciardone non dovrebbero avere grosse difficoltà nel match casalingo contro le Ryan. Gioca lontano dalle muramiche l'altra valdianese e le certose di Padula che dopo il pareggio interno della scorsa settimana è chiamata alla sfida sulla carta agevole sul campo della nuova San Vito Sapri. Cicerale-Pattaro è sicuramente la sfida più interessante di giornata mentre a completare il programma ci sono Alfanesi Reale-Agropoli Procoliano-Rofrano e Acquavella-New Massa. Negli europei di karate in corso in Turchia buona la prova per Emanuele Starnataro che contribuisce a conquistare il pass per la finale per il bronzo a squadre. Una nazionale giovane rinnovata quella del karate italiano che si sta distinguendo positivamente nella 52esima edizione dei campionati europei di karate in corso di svolgimento a Cocaeri in Turchia. Dopo aver conquistato quattro finali per l'oro e due per il bronzo nella giornata inaugurale della competizione ieri la formazione azzurra conquista altre due finali per l'oro nella gara a squadra del Cata. Nel comite maschile a squadre invece si ferma contro la Francia la rincorsa all'oro. Gli azzurri ripescati avranno domani mattina l'occasione per conquistare la medaglia di bronzo. Proprio nel comite a squadre è di scena il valdianese Emanuele Sarnataro che non scende in pedana nel primo turno contro la Russia vinto dagli azzurri per 3 a 0 mentre contribuisce alla vittoria italiana 2 a 0 nel secondo turno contro la Macedonia. La marcia degli azzurri verso la finale per l'oro si interrompe contro la Francia con un secco 3 a 0 conquistato dai transalpini che così guadagnano l'accesso alle semifinali. La formazione italiana però viene ripescata e grazie al successo 2 a 1 contro la Slovacchia conquista la finale per il bronzo in programma domani mattina intorno alle ore 10. con la squadra slovacca decisiva è stata la vittoria nel proprio incontro di Emanuele Sarnataro che proverà dunque dopo il secondo posto ottenuto agli assoluti italiani di Ostia a conquistare insieme alla formazione azzurra un'importante e significativa medaglia di bronzo ai campionati europei. Termina qui il nostro telegiornale vi ringrazio di averci seguiti e vi auguro un buon proseguimento di giornata. azzurra 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 azzurra